E' strano perchè sopra una di tutti quanti qua, ci fanno mangiare nulla. E' strano, capisci che girano tutti quanti qua. Vieni qua la patatina, vieni. Vieni qua. Vieni qua, ci sta un po' libera qua, vieni. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Sì, sono fisi o si è troppo? No, ma stavano mirando qualcosa. Si è troppo. Ma non vedo. non si chiude, non si chiude non si chiude non si chiude ma sapete che cazzo hanno combinato e cancotto proprio mamma mia non si chiude vedi un'altra volta stanno tutti quanti in là stanno cercando qualcosa e non sovrugga è strato fine la tonno rilogare che si e Sai capire che stanno 60? Stanno comunque tutti quanta e quattro anni. Non stanno da due là, non stanno nella tavoletta. Tutti i bici, non tutti i bani, non vanno tutti quanta e quattro anni. E' un posto meraviglioso. Non è un peccato. Eh? Ok.